Siamo qui con i Falafel Fazfamilia, un gruppo che ricordo abbiamo fatto al centro sociale Pedro prima della pandemia e devo dire è stato un ottimo concerto perché per fortuna ancora si poteva ballare e devo dire che la pista si è scaldata parecchio grazie alla vostra musica. La prima domanda che vi farei è com'è stato suonare dopo un anno e mezzo di pandemia e soprattutto com'è stato suonare allo Sherwood Festival se soprattutto ci siete mai stati prima. Allora buonasera a tutti, per noi suonare allo Sherwood Festival è la prima volta, è stato bellissimo ed è stato tipo 15 minuti fa quindi noi con la testa siamo ancora lì e sentiamo solo tipo nella testa, è stato molto bello anche al Pedro per noi è stato bellissimo perché in realtà andiamo avanti da molto tempo come Falafel Fazfamilia come collettivo che mischia un po' sempre c'è chi entra chi esce abbiamo diversi set e li portiamo avanti da quando tutto si è fermato ne facciamo di meno, li facciamo più potenti e vedo che chi ci chiama a suonare nel caso del Pedro era già così prima però chi ci chiama a suonare ci dà carta bianca mentre una volta magari dobbiamo lottare di più su cosa fare invece sarà che tutti ci hanno così tanto da fare sui permessi su quello e quell'altro che sul palco ti lasciano libero e noi ci divertiamo molto poi domani ci chiudono domani ci riaprono noi quando siamo aperti o lo fai o non lo fai è quello non so se ho detto cose sensate vengo da due ore di cassa dritta sul palco ho i pensieri un po' intorcigliati beh l'importante è rimanere aperti penso io e volevo chiedervi voi avete detto prima all'inizio del concerto che siete un collettivo e vorrei capire un po' come cioè in che senso siete un collettivo visto che comunque siete su youtube su spotify cento tonino 3000 vorrei capire un po' anche effettivamente qual è il vostro progetto anche futuro e se avete qualche cosa in mente nel futuro prossimo sto pensando a un modo per rispondere senza mettermi a parlare un'ora di tutta la storia di falafel faz famiglia l'idea del collettivo è l'idea di a noi non interessa che progetto si porta in giro ci interessa un'onda quindi quando siamo abbiamo iniziato eravamo tipo due gruppi che suonavamo roba tropicale in mezzo alla strada col distorsore acceso per noi era già punk tropicale quello e pensavamo di fare una cosa tipo un etichetta però poi alla fine abbiamo capito che ci mischiavamo così tanto che non si capiva dove finiva un gruppo dove iniziava l'altro e allora abbiamo detto andiamo così di volta in volta capiamo sempre cosa dire in modo che se uno come al pedro ci avete chiamato per fare no savignano fa la famiglia la roba con i phon per intenderci sappiamo che quando avete richiamato la sherwood e to casey è quello è quella la storia tanto tutto si mischia ma l'idea che a noi personalmente non interessa l'idea del gruppo in senso di no di like di views e viviamo molto dove siamo e per la maggior parte del tempo noi siamo in romagna in una provincia addormentata e facciamo queste cose nei baretti la gente fa l'aperitivo ci guarda ci fa le storie ci tagga va bene c'è il surreale vale ovunque qui a sherwood ce la siamo spassata fortissimo e ci abbracciavamo dietro al backstage come se avessimo vinto l'eurovision e adesso siamo qua e sto parlando sto parlando io perché ci siamo tutti smostrati assolutamente smostrati jason puoi fare un saluto a chi ci segue da chichmond è una roba solo per chichmond questa intervista muovete quei cuori muovete quei cuori anche beh allora visto che avete parlato di cesena e dell'emilia da dove venite volevo chiedervi visto che il tema delle vostre canzoni è un po come si vive lì appunto come si vive a cesena ma guarda non ti posso dire che si vive male cioè sarebbe esagerato però secondo me noi abbiamo una cosa in comune a molte province italiane non tutte non tutte cioè il fatto di tirare a campare senza ammetterlo cioè fare finta che le cose stiano andando in una direzione il compromesso ma glielo vuoi dire no cioè questo vivere nel compromesso cioè hai quattro bar dove sai che lì fanno il garage là c'è il reggae là c'è quello tu giri un po anche in tutti quanti comunque bevi ascolti la musica però sai che se discuti con un gestore dopo dei quattro bar che dovevi andare magari il terzo non ci vai dopo che hai fatto una serata perché litigato oppure c'è trovi da dire con qualcuno per motivi capito anche solo emozionali fanno discuti dice guarda non lo voglio più vedere ho tolto un altro bar ne rimangono due ed è così per noi per la nostra esperienza che non so quanto sia veritiera tutte le volte che siamo venuti in veneto cioè abbiamo sempre trovato un attimo più di gas aperto quindi io non so se è perché magari veniamo da fuori la gente più curiosa invece di vedere dei deficienti di cesena a cesenatico che magari non so fa meno effetto però qui ho sempre trovato comunque sia della carica c'è gente che anche quando abbiamo suonato la prima volta a padova al buscaglione c'era questa stanzetta piccola c'erano otto persone che davano il cambio ad altre otto persone c'è uno andava al bancone un altro entrava in questa salietta abbiamo iniziato alle nove e mezza sembravano le due di notte quando abbiamo iniziato lì e da lì abbiamo conosciuto voi del pedro che ci avete chiamato non so se tutte le province sono come cesena cesena dorme rimini pure ravenna non lo so e la romagna è assolutamente decadente come decadente l'italia ma la romagna vive di questo mito degli anni 80 degli anni 90 che non si scrolla si piange addosso e continuano a dare sempre i soldi comuni vari per fare i grandi eventi chiamare un nome danno i soldi agli stessi localari che sono fatti 30 anni di soldi neri e noi suoniamo nei baretti di chi ci crede che poi a forza di crederci chiude fondamentalmente però non credo che sia solo cesena secondo me quindi così però c'è il mare la collina la piadina no purtroppo devo dire che è una situazione che si rivede anche nelle province qui però devo dire che voi siete almeno quanto mi riguarda un grandissimo progetto e a sto punto mi viene da farvi l'ultima domanda giusto perché per la prima volta parlo anche in radio e non mi era mai successo perché di solito sono un pizzaiolo del festival e del pedro e a questo punto volevo chiedervi volevo chiedervi cosa ne pensavate della nostra pizza giusto per fare un po di pubblicità buonissima quando siamo venuti al pedro la prima volta abbiamo visto tipo una pizza che si sfornava detto cazzo mangiamo quella pizza ci vada dio stasera allora ne ordiniamo la pizza la pizza arriva a tutti tranne che a yunco dayton e yunco dayton aveva preso la patata e gorgonzola a un certo punto si è facciato ma guarda che abbiamo finito le patate ah no dammi una pizza qualsiasi e poi un codetto ha mangiato la pizza oggi siamo arrivati abbiamo visto la pizza subito yunco dayton ha preso la patata e gorgonzola di quella volta come era buonissimo era ottima no un applauso un applauso alle pizze ea tutto lo sharewood veramente ce la siamo spassata ce la stiamo spassando grazie mille e beh direi che possiamo liberarci tutti quanti visto che siamo al penultimo giorno di festival e quindi ci vediamo a tutti quanti domani all'ultimo giorno del festival e buona serata a tutti ciao buonasera